Stassolo il primo po... no, ma... Devo rispondere seriamente o... Come vuoi. Nome. Jacqueline. Sonia. Ruolo. Opposto. Opposto. Età. 21 anni. 19 anni. Il tuo soprannome. Jackie. Pony. Descrivi con una parola le ragazze in squadra che fanno il tuo ruolo. Sonia, direi un po' pazzerella. Jackie, molto responsabile. Una tua caratteristica. L'essere empatica. La pazzia. Un tuo difetto. Troppo precisina, a volte. Troppa pazzia. Il tuo sogno nel cassetto. Penso avere una bella famiglia e far carriera nel mio lavoro. Diventare psicologa. La tua più grande paura. Rimanere sola. La battuta. Cosa dici quando esulti? Mi esprimo a gesti, però penso di dire... Spingere a cavalle. Urlalo. E... Spingere a cavalle! Piatto preferito. Pizza. Pasta. Comi. Pec e brie. Tacchino. Filadelfe e vitelli. Tre parole per descrivere la squadra. Famiglia. È una squadra molto compatta. E ovviamente professionale. Presente. Accogliente. Sorprendente. La giocatrice più pazza barra simpatica. Penso che il primo posto, indubbiamente, lo vinca Mora. Mori. Quella che ti sprona a migliorare. Sicuramente Glory mi aiuta, ma quest'anno trovo molto appoggio anche in Lolli e Mora. Niki. Facci una linguaccia. Ora una faccia buffa. Vino o birra? Spray. Vino. La persona con cui è legata di più in squadra? Ci sono diverse persone con cui ho legato, con cui ho condiviso tanto e penso che siano Mora, la Mapo, la Lau e un po' con tutte sicuramente. Ci conosciamo ormai da due anni quasi. Diki. 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 Grazie.